Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, questo è il blog dei 100 iscritti. Sono in vacanza, quindi i video non ci sono, e quindi come vedete alle mie spalle, quindi guardate le barche, che spettacolo, adesso vi faccio vedere un attimino dove sono. Guardate che spettacolo, queste sono tutte le basche, barche, e questo è il golfo dei poeti, questo è il golfo dei poeti Lerici, Liguria, che sembrava un posto splendido, per fare il video guardate il castello, illuminato, eccolo qua, barche, guardate che bellezza, ok, torniamo a noi, mi sembrava uno scenario bello per dirvi che sono in vacanza, che i video in questo momento non ci sono perché è qualche giorno di pausa, e vengono malissimo senza tutta l'attrezzatura, però volevo con questo video farvi sapere questo, e ringraziarvi perché ho passato i 100 iscritti, siamo a 115, e è un traguardo molto importante per me, sono stracontento, strafelice, aspetta col castello dietro, vediamo come viene, eccollo là, col castello dietro, sono strafelice, stracontento, e niente, grazie per esservi iscritti, grazie perché 9 mesi fa ho fatto il video per i 50 iscritti, e quindi sono strafelice adesso di aver raggiunto, di aver superati 100 iscritti, mi impegnerò sempre di più, mi divertirò sempre di più, seguitemi, fate iscrivere, iscrivetevi, e che questo canale si cresca sempre di più, dal Golfo dei Poeti, buone vacanze a tutti, e ciao!